Benvenuti, cari follower. Se un avviso molto severo e urgente da parte del modello americano ed europeo nel loro ultimo aggiornamento per l'Italia, a partire dalla prossima domenica 30 aprile 2023 e lunedì 1 maggio 2023, ma prima di entrare nel dettagli, non dimenticare prima di supportare questo video con ammirazione e condividerlo con tutti in modo che tutti ne conoscano il vantaggio e per evitare condizioni meteorologiche improvvise e avverse, quindi, come abbiamo accennato in precedenza, ci sarà una forte inversione del tempo e il ritorno dell'inverno prepotentemente, a partire da domenica a lunedì 1 maggio, e il clima freddo e piovoso continuerà per un'intera settimana. Con ingenti quantità di pioggia in quasi tutte le regioni settentrionali, centrali e anche meridionali, e nell'isola di Sicilia e anche la Sardegna, e le quantità potrebbero superare, come dicevo, localmente i 180 mm, e non è escluso che in alcune zone si formino piogge torrenziali e allagamenti, per cui la prossima settimana è d'obbligo prudenza, e stiamo dando seguito a tutte le novità aggiornamenti e vi forniremo ogni altro importante dettaglio nelle prossime ore.